Buongiorno a tutte cari estetiste, siamo al padiglione di Biselfi e con noi abbiamo Roberto Farnesi al quale vogliamo chiedere, la bellezza è anche maschile giustamente, non è più solo appannaggio del mondo femminile? Più che bellezza appare lei di cura del corpo, di cura della propria immagine, che oggi è molto importante in qualsiasi ambito professionale non solo in quello attoriale o del mondo dello spettacolo, quindi ben vengano anche le linee di prodotti da uomo, perché no? Quindi cura dell'alimentazione, bere molta acqua, tentare di fare un po' di sana attività fisica e poi curarsi con dei buoni prodotti senza eccedere mai in cose ridicole, però assolutamente sì, per esempio questi patch di Biselfi, quando uno è stanco sono fantastici a me li hanno dati per testarli, per provarli e bene dai, assolutamente sono uno sguardo più riposato, oggi no, ma fra un pochino le metto e vedrai che funziona Assolutamente! Volevo chiederti, il tuo routine di bellezza, visto che Biselfi presenta la sua linea skin care, come curi tu la tua pelle? Beh, appunto pochi prodotti selezionati, idratanti, appunto questi patch quando siamo stanchi si viaggia molto, questa è stata una bella scoperta e ti ripeto, soprattutto avendo cura in generale, bisogna essere in ordine tutti, cioè i capelli puliti, le mani curate, i piedi curati, una bella pelle luminosa ripeto, senza eccedere, poi rimaniamo anche uomini, no? Ok, giustamente! E allora anche diciamo col siero della Biselfi ci diamo anche una mano alla mattina appena svegli, va bene? Grazie Roberto, gentilissimo! Grazie!